Via libera gli sport di contatto a partire dal lunedì 6 luglio. È quanto previsto dall'ordinanza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure per la gestione e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il provvedimento approva il protocollo di sicurezza per gli sport di contatto, calcetto e basket ed autorizza le attività a partire dal lunedì 6 luglio. Da sabato, invece, si torna a ballare nelle discoteche. Stesso discorso per quel che concerne le sagre, che nel rispetto dei protocolli di sicurezza potranno ripartire dal 10 luglio.